Lei è Nuvola, è una mix mare in mano, una cucciolona, fa parte di una cucciolata dove tutti i suoi fratelli sono stati adottati, sono stati lanciati in un sacco in una proprietà privata e poi accuditi e adottati. Nuvola è l'unica che ancora non trova casa, cerca casa, è una cagnolina che va d'accordo anche con altri cani, è molto giocherellona, l'ideale sarebbe un'adozione con un altro cane che sia della sua età o sia anche più adulto e equilibrato. Nuvola, se purtroppo non troviamo nell'immediato un'adozione, andrà in canile ed è una cosa che vorremmo evitare perché per una cucciolona non c'è cosa peggiore. Va d'accordo con le persone, va a guinzaglio, ovviamente è una taglia grande e sarà affidata, sterilizzata, microcippata ed è già vaccinata. Speriamo per lei di trovare una famiglia, ovviamente consapevole, meglio se è una famiglia che conosce anche la razza, dal momento che lei ha molte caratteristiche proprio del pastore mare in mano, molto protettiva nei confronti delle persone e ci auguriamo davvero di trovare presto per lei qualcosa, perché non la vorremmo davvero vedere in canile. Nessun cucciolo dovrebbe finire in canile. Nuvoletta. Ehi, cucciola. Piccolina. L'amore è bello. Ehi, t anderei. Ehi, un sacco, amici. Erano? Sente. È al massativo. Grazie a tutti.